Carissimi amici, guardate cosa vado a mostrarvi nel parcheggio qua in centro. Una bellissima Austin Healy, come si può benotare dal parcheggio. Bellissimo, gli interni tutti coperti. Spettacolo, ci portiamo sul davanti. Bellissimo, con tutti questi accessori freggy. Questo qua bellissimo, della 1000 Miglia. Club Tommy Wisdom, spettacolare. Tenuta in condizioni eccellenti. E' la seconda sera di fila, che la vedo qua. E stavolta la catturo. Tenuta benissimo, lucidata in ogni più piccola particolare. Spettacolo. L'auto ve l'ho fatta vedere. La sua bella calda. Bellissimo colore, a mio avviso. Con questa inquadratura generale saluto a tutti, buona giornata, seguitemi sempre.